Musica Rotatoria di Contrada Caitina, estradella di collegamento allo stadio comunale, il consigliere comunale del PD di Modica, Giovanni Spadaro, chiede alcune delucidazioni in un'apposita interrogazione. Cosa è accaduto? Semplicemente che il consigliere comunale DEM si è accorto che alla fine dello scorso anno sono state impegnate somme per tre perizie di variante e assestamento. A questo punto, nell'interrogazione inviata all'amministrazione comunale, l'esponente del PD chiede di conoscere se gli importi previsti dalle perizie sono per lavori da fare o sono il pagamento di lavori già fatti. Il motivo per cui queste perizie vengono fatte ora, dopo ben otto mesi che i lavori sono stati consegnati e inaugurati nel maggio 2023, se si possono inserire come oggetto di variante e assestamento opere, quali l'inserimento di caditoie per i canali di scuolo, protezione con guardrail di un canale di scuola adiacente alla carreggiata, delimitazione della carreggiata stessa con muretti e relativa barriera, che essendo necessarie per la sicurezza dei pedoni e della circolazione degli autoveicoli, dovevano essere già previste a monte e infine se si possono affidare perizie di variante e assestamento per lavori che superano il 50% degli interventi stessi. Lo stesso Spadaro inoltre precisa che l'importo originario dell'opera suddivisa in tre lotti è di oltre 584 mila euro complessivi e al tempo stesso che i lavori per la realizzazione della rotatoria e stradella di collegamento sono stati dati in appalto con la procedura di affidamento diretto. Per quanto sopraesposto, conclude Spadaro, chiedo quindi di conoscere a quanto ammonte il costo complessivo della rotatoria e della stradella di collegamento. Alloggi e defibrillatori donati alla città di Modica in stato di degrado, è quanto afferma il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord. Giovanni Cavallo, il quale sottolinea come ogni anno in Italia circa 70.000 persone, sono vittime di un arresto cardiaco. Un terzo dei casi si verifica in luoghi pubblici la morte cardiaca improvvisa. È infatti ad oggi una delle principali cause di mortalità sia tra i giovani sia fra gli adulti e può essere combattuta solamente entro i primi dieci minuti praticando la rianimazione cardiopolmonare utilizzando il defibrillatore e la presenza sul territorio comunale di postazioni di defibrillazione opportunamente posizionate e segnalate così come di cittadini formati in grado di riconoscere rapidamente un arresto cardiaco o di praticare una rianimazione cardiopolmonare di qualità e di utilizzare un semplice ma prezioso dispositivo salvavita come il defibrillatore può permettere di donare una seconda chance di vita ad una persona a Modica e i defibrillatori che sono collocati in vari punti della città tra cui quelli di piazza Corrado Rizzone a Modica Bassa, piazza Libertà La Sorda e piazza Mediterranea Marina di Modica da un sopralluogo effettuato sono in stato di degrado. Il decreto ministeriale del 16 marzo scorso prosegue a cavallo, disciplina i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semi-automatici e automatici esterni e il decreto ministeriale del 24 aprile 2013 disciplina le linee guida per la manutenzione degli stessi. Il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, Giovanni Cavallo, dichiara quindi che la normativa è molto chiara ed è semplice da attuare basterebbe sostituire le teche rotte o locurate dagli eventi atmosferici dove sono alloggiati i defibrillatori ripristinare la segnaletica internazionale identificativa che le sterpaglie che hanno trovato in loro habitat vengano tolte e che vengano segnalate in modo migliore per essere più individuabili. Sud Chiama Nord chiede all'amministrazione comunale di sistemare i defibrillatori per dare un concreto segnale alla cittadinanza Se spieghiamo spiega e conclude Sud Chiama Nord che altri defibrillatori vengano installati nelle zone della città per far sì che Modica diventi ancora più cardioprotetta. Mentre il mondo agricolo e zootecnico attraverso un periodo di grave crisi per cui superamento non si intravedono prospettive incoraggianti ci sono coloro che anziché preoccuparsi ed occuparsi di quanti nelle campagne stentano a sopravvivere e sono costrette ad affrontare giorno dopo giorno continue e crescenti indiscrivibili difficoltà senza precedenti tirano fuori ancora una volta l'argomento del Parco degli Blei e quanto afferma il distretto produttivo siciliano lattiero caseario della provincia di Ragusa in una nota Un progetto, quello del parco, prosegue il distretto che se realizzato come qualcuno purtroppo ipotizza finirebbe per affossare le economie Blei e quel che resta dell'agricoltura e della zootecnica nel comprensore individuato Sulla questione purtroppo si vuole insistere senza tenere conto che il territorio Blei o fatta accezione per qualche zona limitata non ha le caratteristiche per potersi parlare di un parco La delimitazione di cui si parla è frutto di una penalizzata approssimazione e non tiene conto delle reali caratteristiche ambientali e delle vocazioni produttive prosegue il distretto, oltre che del fatto che per il territorio è quasi interamente antropizzato e con insediamenti e allevamenti che non possono essere ignorati L'ipotizzata realizzazione del parco andrebbe a ingessare vastissime aree produttive con gravi riflessi per l'economia, per l'agricoltura e per la zootecnia se è vero che, come qualcuno asserisce, sul territorio destinato ad essere delimitato esistono altri vincoli altrettanto vero che ciò non può e non deve autorizzare chi che sia ad introdurre altre penalizzazioni tenuto conto che per ogni eventuale movimento o modifica occorre il rilascio di autorizzazioni da parte di istituzioni e di autorità dei quali ad oggi si conosce niente e non si conoscono esistenza, collocazione, sede e funzioni attribuite Ci si augura che possa prevalere il buonsenso, conclude la nota diffusa dal distretto produttivo Ibleo e ci si trovi insieme per difendere gli interessi veri della provincia Iblea meritevole di ben altra attenzione Ancora una volta il parco degli Iblei torna al centro del dibattito politico almeno a livello regionale e locale fattore scatenante la richiesta del parlamentare regionale MPA Giuseppe Carta in qualità di Presidente della Commissione Ambiente all'Ars di un'audizione in programma il prossimo 19 marzo individuare soluzioni che possano convivere con le esigenze del territorio il motivo che ha spinto Carta alla convocazione dell'audizione prevista la presenza dei vertici dell'assessorato a ramo Elena Pagana in primis nonché diverse associazioni se nonché a sottolineare l'opportunità di una convocazione che francamente pare anche a noi piuttosto improvvisa è la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo la quale sottolinea come l'audizione di Carta è tardiva quanto inopportuna tardiva in quanto informiamo il deputato MPA che non è di fatti più competenza della Commissione che presiede visto che il leader di istituzione ha già abbondantemente superato il livello regionale inopportuna in quanto un Presidente di Commissione quale Carta non può utilizzare il suo ruolo che dovrebbe essere super partes per convocare esclusivamente le associazioni contrari all'istituzione del parco che ricalcono la sua personale posizione e solo successivamente gli amministratori dei 32 comuni a questo punto chiediamo che vengano uditi anche i soggetti favorevoli all'istituzione del parco la Campo prosegue stigmatizzando un comportamento istituzionalmente non corretto che ci ha indotto per tanto a presentare una rigente richiesta di audizione anche delle organizzazioni che sono state colpevolmente escluse da Carta solo ascoltando loro forse Carta comprenderà di non conoscere per nulla l'iter e forse verrà a galla anche l'intento esclusivamente strumentale che sembra emergere dal suo operato dato che siamo a ridosso delle elezioni amministrative che coinvolgeranno i comuni del territorio conclude Campo la CGL, la FP CGL, la SP CGL di Raguse e le reti associative illustreranno il piano di iniziative per difendere e riconquistare il diritto alla salute oggi fortemente messo in discussione dalle politiche di tagli che sempre di più stanno spingendo alla privatizzazione del sistema sanitario nazionale l'appuntamento prevede una conferenza stampa in programma sabato davanti all'ingresso della direzione sanitaria dell'ASP 7 di Piazza Igea come si ricorderà lo scorso 7 marzo si è costituito nella sede della CGL di Raguse il forum per la difesa e la promozione della sanità pubblica nel territorio ibleo il forum è frutto di un'assemblea territoriale di associazioni e movimenti che riunendosi ha discusso delle criticità sempre crescenti del sistema sanitario pubblico ormai quasi al collasso per le lunghe liste d'attesa che cittadine e cittadini devono attendere per visite specialistiche ed esami diagnostici compresi quelli urgenti la prima manifestazione pubblica del forum è fissata per il successivo sabato per una sanità equa e resiliente è il claim di questo convegno in programma importantissimo in programma domani e sabato a Scigli l'obiettivo sembrerebbe ambizioso di questi tempi ma la presenza di relatori di altissimo livello e di un importante momento di confronto che durerà in questi due giorni forse ci dà la risposta giusta cioè forse possiamo trovare soprattutto le professioni sanitarie possono trovare quelle risposte che in questo momento mancano non per volontà appunto dei professionisti di questo campo beh non siamo così ambiziosi da trovare domani le soluzioni a questi problemi che sono dei problemi che stanno vivendo un po' tutti i paesi occidentali ad economia avanzata noi viviamo un periodo per esempio di grave denatalità e a questo si contrappone anche invece un allungamento della speranza di vita che porta la nostra demografia a vedere aumentare in maniera esponenziale il numero degli anziani e questo è quello che comporta in sanità lo sappiamo perché aumentano comunque le cronicità aumentano in qualche modo anche i costi però è un obiettivo assolutamente da perseguire quello di allungare il più possibile la vita ma bisogna poi porre dei rimedi a quelli che sono i problemi che questo comporta innanzitutto il problema quello che dicevamo è quello della possibilità di accedere ai servizi sanitari noi siamo uno degli ultimi paesi nel mondo che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti nonostante le difficoltà bisogna dire che noi viviamo in un paese dove c'è una possibilità di accedere alla sanità a prescindere dal reddito che uno ha e purtroppo questo principio se non si fanno delle scelte politiche radicali probabilmente sarà un diritto che dovremo in qualche modo mettere in discussione aver riunito qui a Scicli professionalità che arrivano da tutto il mondo ci consentirà perlomeno di fare un focus su quelle che possono essere le strategie adottabili realistiche non quelle degli slogan ma cose concrete perché noi siamo professionisti della salute e quindi tutti i giorni ci confrontiamo con la concretezza e quindi speriamo che con in qualche modo la competenza e anche l'esperienza che tutti questi relatori hanno in questo campo quindi nella definizione di politiche sanitarie riusciamo a dare un contributo dei consigli o comunque degli stimoli alla politica che poi in fondo è quella che dovrà assumere decisioni radicali se vuole appunto garantire equità Con una battuta Liste d'attesa, sanità privata e pubblica autonomia differenziata noi qua in Sicilia abbiamo tante criticità che si aggiungono Qual è, capisco che è impossibile trovare una ricetta ma quale può essere la filosofia per mantenere quel principio di cui parlavamo prima cioè una sanità accessibile a tutti Innanzitutto razionalizzare la rete dei servizi Noi siamo in un paese dove sempre è stato considerato solo l'ospedale il luogo dove si andavano a trovare soluzioni ai problemi di salute non potrà essere più così L'esperienza del Covid recente ci ha insegnato che se non c'è una rete territoriale importante dove ci sono figure come gli infermieri di famiglia come rivedere un po' la funzione del medico di famiglia rivedere un po' la funzione dei servizi distrettuali se non si mette mano a questa rivoluzione della rete dei servizi e portare la sanità il più possibile e la salute il più possibile a casa delle persone per evitare che poi si rivolgano alle strutture sanitarie a volte anche impropriamente e anche questo allunga le liste d'attesa ecco se si va in quella direzione io ritengo che sia una soluzione fattibile realizzabile e che però chiede un coraggio da parte dei politici che fino ad ora insomma non è stato proprio così chiaro grazie a tutti